Amo, io prenoto eh Brava, che facciamo? Pizza o sushi? Perché sono deciso Io sarei più per la pizza, eh Però pure il sushettino Ma se facciamo tutte e due? Questa cosa del giorno libero deve essere pensata bene, capito? Perché se me mangio il sushi, poi c'ho voglia della pizza Se me mangio la pizza, poi c'ho voglia della sushi Senti, siamo dagli amati e startoro Fammi un bar triste dei primi romani Carbonara, matriciana e cacio e pepe Amo! Non metti mech perché non butto il pasto libero per mech, eh Io non intendevo prenotare il ristorante Intendevo prenotare per l'estate L'estate? Che mangiamo tra sei mesi? Le vacanze, amore, le vacanze Ah, eh, che già me stava preoccupare io Puglia va bene? Va benissimo, capirai? Orecchiette, cimetiraba, panzanotti, chise, taralli, burrate, focaccia Poi vabbè, tutto il pesce Hai finito? Sì, scusa, che c'ho fame? Allora prenoto, eh? Eh sì, prenota tanto stamattina a gennaio, che ce vuole? Si, salve, vorrei avere un preventivo per agosto Adesso rispondo Ah, tutto pieno E senta, luglio invece? Eh, ecco, adesso Ah, siete al completo da maggio a settembre A che punto sei tu? Sto a metà il concerto, manca il secondo atto Eh, salve, buongiorno Avrei bisogno di un preventivo per agosto 2023 Pronto, pronto, salve Pronto È cadutato Dal 6 al 13 Pensione completa 5.600 euro Sì, salve, vorrei avere un preventivo per agosto 2023 Ah, ho sbagliato il numero Ah, mezza pensione 4.800 Va bene Guarda, la richiamo per conferma Eh, 4.800 e mezza pensione Io poi confermo subito che già andiamo Beh, chiama e zitto È pronto E avrei bisogno di un preventivo per agosto 2023 Se è possibile No No Ah, 1.500, perfetto Ma voi siete in Puglia, giusto? Ah, Viterbo Ah, no, 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 no Mi scusi, ho sbagliato No Ma perché in genero Che numero devo premere? Eh, sì, salve Avrei bisogno di un preventivo per agosto dal 6 al 13 Pensione Premere 51 Per centri anziani Premere 51 Ah, pensione completa 1.700 Perfetto Ma voi accettate anche i cani? Sì, salve Avrei bisogno di un preventivo per agosto 2023 Ah, siete chiusi per ristrutturazione Allora, staccatela, segreteria, no? Ah, accettate solo i cani Ah, ok, giustamente perché è una pensione per cani Non avevo capito Mi scusi Vieni, ci fanno piccoli Fanno una cuccia per tre Grazie, basta, proprio l'ultima Una bella cuccia Tregno Vista mare Mica era male E si salve Avrei bisogno di un preventivo per agosto Dal 6 al 13 Pensione completa 6.700 Perfetto, guardi La richiamo per una conferma Amore, non partiamo Chiudi gli occhi che hanno sorpreso Amore, ma che c'entra con le vacanze? Chiudi che hanno sorpreso 3, 2, 1 Ta-da! Beh Ti piace? Ma è casa nostra Oh, ho prenotato luglio e agosto Viste babbe proprio Oh, pensione completa Conosco il proprietario Ci ha fatto un prezzaccio Grazie a tutti